Musica 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 Hi Lord Facciamo un giro in moto Musica Musica Senti sei teso? Sei nervoso? No, no, va bene, tra tutto ho rilassato. Ieri è come dormito, fino al largo si vanno a solo le mie altre. Che bello! Da presto Paolo, come va? Dormito bene, rilassato. Michi, pensi che così diventa più veloce se ti concentri? No, spero che non la vada di spiagno Ciao, finalmente! Questo è qualcuno che ti filma Anche perché sono molto carina, guarda con tutto il sguardo Oh, assolutamente Fermati Questo è il meccanico della villa Sì, sempre il training autogeno, no? Sì, a fuori Abbiamo stato sempre più veloce del noviello Grazie a tutti 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 Il loro vicino Balanie Tommaso e Tommaso Migliori Andiamo a vedere come va a finire Vai Tavano, Tavano, ce la puoi fare Dai vai Attenua un attimo Dai su su Dai, dai, dai Grazie a tutti No, è il bagnino, il bagnino è il bagnino Cosa che gli fai? Le sconfio le cose Perché mi hai rubato l'ultimo posto? Non si fa così? Non volevo concederti questo onore Peccolo, neanche qua il mio melassa Mi hai rubato anche il penultimo posto Come ti sei permesso? Solo per stavolta No, grazie Non succederà mai più E adesso al via l'ultima batteria della prova decisiva Questa volta per il titolo Triveneto Gruppo C Vediamo se Paolo D'Apretto riesce a recuperare il gap Che lo divide in classifica con Tommaso Miglia Andiamo a vedere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti